Ciao cari amiche, eccoci ritrovati a una nuova puntata dedicata alla creatività. Oggi vi voglio presentare la nuova cera Anticante Easy. Che cos'è la mia nuova cera Anticante Easy? Allora è sempre una cera scura, però non ha più bisogno di mettere sotto la vernice neutra. Quindi possiamo andare ad anticare direttamente con questa che è l'Anticante Easy. Per il semplice motivo che è più veloce. Però questa non la potete utilizzare come protezione, ma solo per anticare. Allora, potevo scegliere varie tonalità. Ho scelto di mostrarvela con il verde veneziano. Il verde veneziano oltre che essere un colore di super tendenza, non solo per fare piccoli oggetti, ma anche per fare proprio cucine intere. E molte di voi so che hanno fatto dei capolavori, eh. Sapete, sapete a chi mi riferisco. Allora, ho proprio pensato di fare una cornicetta con il verde veneziano. Allora, prima di tutto queste sono delle cornici di plastica, molto molto economiche. E il colore, come vedete, aderisce perfettamente. Io qui che cosa ho dovuto fare? Ho applicato con il pennello velluto, che è il pennello quello con la setola più scura, ok, ed è sottilissimo. Leggermente umido, ho steso uno strato e poi un secondo strato di verde veneziano numero 13. Come potete vedere il colore è completamente autolivellante e non lascia assolutamente il segno del pennello. Se ci sono delle imperfezioni tipo questa, è perché le imperfezioni sotto esistono già sul nostro mobile. Se noi abbiamo un mobile con delle striature, con dei buchi, con dei graffi, non è che il colore li vada a riempire, eh, amiche. Cioè, assolutamente no. Li va semplicemente a coprire, ma non a riempire. E le cere anticanti, tipo questa che stiamo utilizzando, che vedremo utilizzare tra qualche minuto, va solo a mettere in evidenza questi effetti di logorio del tempo. Quando utilizzate le cere, io vi consiglio sempre di mettere i guanti, perché comunque la cera è sempre un prodotto assolvente. Noi possiamo lavorare con due prodotti. Possiamo utilizzare i classici pennelli, quelli per lo stencil, ok, o se no possiamo utilizzare delle salviette umidificate, quelle, tipo quelle per i bambini, che sono molto, molto utili. Chi ha fatto i corsi da me ha imparato ad apprezzarle. E poi sempre avere anche della carta da poter lavorare, della carta assorbente. Mi raccomando, non utilizzate carta da giornale o queste cose qua. Allora, prendiamo, lavoriamo con il pennello, mettiamo così comoda la nostra cornice, perché queste parti qui sono molto belle, e andiamo a prendere la nostra cera, che come vedete è molto più chiara della cera anticante, quella classica. Questa qua è proprio quella easy, facile, e andiamo a riempire tutte le parti, e andiamo a ricoprire la nostra cornicetta. Ecco qua. Andiamo a far scivolare la cera su tutta la nostra superficie, in questo modo qua. Allora, diciamo che se abbiamo un mobile molto grande, questa ci facilita tantissimo il nostro lavoro, perché è proprio easy, è proprio veloce, e recuperiamo dei passaggi. Ecco qua. L'abbiamo in confezione. Di solito le confezioni delle cere si tendono ad acquistare comunque da 500, perché sono molto molto più comode averle così grandi. Ecco qui. E andiamo subito a mettere la cera in tutti i punti che dobbiamo andare a decorare. Ecco qua. Vedete le varie, queste parti qua, che sono veramente molto molto belle, molto importanti. Vado a ricaricare il mio pennello, ecco qui, e vado a lavorare così. Se non avete questi pennelloni da stencil, potete utilizzare anche un vecchio pennello rovinato che avete. Mi raccomando, però sempre asciutto, non deve essere bagnato. Quindi i pennelli dove si lavora con la cera non vanno mai bagnati, ma al limite ripuliti, semplicemente con un po' di carta. A questo punto vado a lavorare con della carta assorbente e vado a togliere l'eccesso semplicemente di cera. Ecco qua. Lasciando. Io sto usando della carta, però potete utilizzare senza problemi anche delle stracci di cotone, ancora meglio, perché quelle proprio non vi lascia nessun tipo di segno. Sui le anticature, io consiglio anche sempre di fare delle tamponate in questo modo. Le anticature, adesso qua chiedo una bella zoomata a Mauro. In questo punto ci deve essere più prodotto di cera, ci deve essere più scura. Nella parte qua interna, stessa cosa, ok? Logicamente nella parte completamente dritta andiamo a tamponare. Cosa che anche qui, vedete, cerchiamo di andare a tamponare, quindi togliere l'eccesso di prodotto che verrà assorbito dalla carta o dallo straccio di cotone, che non lascia i pelucchi, però mi raccomando. Andiamo proprio a tirare via il tutto in questo modo qua. Avete notato come il verde veneziano cambia? Cambia totalmente. Vedete, siamo partiti da una colorazione così, cambia completamente con l'anticatura. Proprio questo è una tonalità che richiede l'effetto anticatura, perché è proprio bello. Altri colori della mia linea che sono molto belli con una semplice anticatura sono il rosa polvere, l'azzurro polvere, il verde veneziano e poi sicuramente il biancolatte. Il biancolatte anticato è veramente molto 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 bello. Ecco qua. La cosa importantissima adesso è lasciare asciugare perfettamente. Ci sta anche più di 24 ore, anche un paio di giorni, il nostro prodotto ad asciugare. Però è veramente molto veloce e molto bello. Ecco qua. Allora, adesso, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo e molte di voi, care amiche, mi chiedono sempre gli effetti del dry brush. Ecco, vedete che sto ripulendo il pennello della cera. Ecco qui. Vado a chiudere la mia cera easy e la sposto. Andiamo a vedere velocemente la tecnica del dry brush su una cornicetta uguale a questa. Allora, volevo spostarla. La metto qui così è fuori camera. Allora, prendiamo la nostra cornice che ho già colorato con del color fango, del tortora, ok? Una colorazione comunque molto uniforme. Vado a prendere in questo caso il bianco lavorio, che è il bianco veneziano. Anche questo è molto bello, anticato. Tutte le tonalità veneziane sono belle, anticate, che sono quindi l'avorio veneziano, il verde veneziano, il rosa polvere, l'azzurro polvere. Ecco qui. Andiamo a prendere. Colore uniforme si fa con il pennello velluto, leggermente umido. Stendiamo il colore su tutta la superficie, una mano o due, lasciamo asciugare completamente coperto e non ci sono i segni del pennello. Questo è il pennello di setola, ok? e deve essere usato completamente asciutto. Quando è un po' che lo utilizzate, è inevitabile che il pennello si riduca in questo modo. Onestamente è fantastico utilizzarlo quando è così. Prendiamo il colore avorio, pennello completamente asciutto, imbeviamo bene le nostre setole e andiamo a pulire le facce del pennello da una parte, dall'altra, a taglio di qua, a taglio di là e a taglio anche per tutta la parte interna, ok? A questo punto andiamo a scorrere il pennello sulla base, la cera che è già all'interno della Cholk by Creare Insieme, depositerà sulla base impedendo al colore stesso di attaccarsi. Ecco qua. E abbiamo già ottenuto un effetto di decappatura, ok? Perché la tecnica è sempre il decapè che lascia intravedere il colore sottostante. Lavoriamo molto bene sulle parti della cornice superiore e come potete vedere vado a tamponare in questo modo qua, insisto in queste parti perché comunque ci sta a insistere un po' così e poi faccio la parte interna di qua, ecco qui, e vado a fare la parte interna anche del nostro lato. Vi ricordo che questa è sempre una cornicetta di plastica molto economica, molto easy, ma veramente molto belle per imparare la tecnica e per fare dell'esercizio. Quindi vado a lavorare su tutta la superficie. Se ci sono difetti, logicamente il colore non li va a coprire, non è un colore che toglie il grafio, toglie il buco, ok? Cioè tutto ciò che rimane sotto, che c'è l'imperfezione sotto, il colore lo può solamente andare a evidenziare. Ecco qua. Questa è una cornicetta fatta molto velocemente in dry brush e anche questa poi non la possiamo andare, se vogliamo, quando è perfettamente asciutta, la possiamo andare ad anticare come abbiamo fatto con la cornicetta. Oh, qua mi è rimasta, guardate, un po' di cera. Andiamo subito a tirarla via. Ecco qua, dovete sempre stare attenti di non dimenticarvi pezzi di cera sul mobile, perché quelli poi rimangono. Ecco qui. Andiamo a, possiamo andare, quando la nostra cornicetta è perfettamente asciutta, la possiamo andare ad anticare. Cari amiche, io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete rivedere tutte le mie puntate sul canale YouTube Laravella Video, seguire le mie storie sulla pagina Instagram di Laravella Creare Insieme. Il mio sito è creareinsieme.it come la mia pagina Facebook. Io vi saluto e presto per una nuova puntata sempre qua in compagnia con me. Ciao, ciao! Ciao, ciao!